Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La RAI ha grandi progetti per Stefano De Martino, destinato a diventare una figura di spicco della televisione statale. L'animatore napoletano ha assunto il ruolo di conduttore di Affari Tuoi e si prepara ad un nuovo impegno. È stato confermato il suo incarico come giudice di tale quale show insieme a Pupo e Geppi Cucciari. Il panel includerà anche Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il 20 settembre, per la prima puntata di tale quale show, De Martino sarà accanto ai giudici, riunendosi con Alessia Marcuzzi. Il programma, condotto da Carlo Conti, tornerà su RAI 1 con alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti. Non ci sarà il solito torneo finale, ma l'ultima puntata sarà dedicata all'annuncio del vincitore della quattordicesima edizione. Tale quale show, molto popolare tra il pubblico, presenterà quest'anno alcune novità. Stefano De Martino sarà il primo giudice rotante dello show, affiancando Malgioglio, Panariello e Marcuzzi. La nuova edizione inizierà il 20 settembre e si concluderà l'8 novembre, con un format diverso rispetto agli anni passati. La presenza di De Martino in due programmi di punta della RAI conferma il suo crescente successo e la fiducia che la televisione pubblica ha riposto in lui. L'animatore napoletano si prepara a vivere un periodo intenso e ricco di soddisfazioni, pronto a divertire il più pubblico. Grazie.